vediamo la buccia della frutta, delle cose che noi conosciamo, la fungiamo tutta l'altra io ci stavo alla buccia di banana, lì ne hai una, hai una banana intera per la verità allora facci vedere la buccia della frutta la 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 frutta Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.